Continua l'impegno del Parco archeologico di Pestum e Belia per la didattica a distanza con le prime gite online che vedono in collegamento le guide e gli archeologi dai siti e le classi che seguono in rete. Il progetto è stato lanciato una settimana fa insieme all'associazione Cilento for All, già da anni impegnata nella fruizione inclusiva del patrimonio di Pestum e del Cilento, con l'obiettivo di sostenere scuole e famiglie in un periodo difficile. Sono già quattro le scuole che hanno preso parte alle visite dal museo e dodici le prenotazioni confermate a connettersi all'unni da tutto il territorio nazionale, tra cui Salerno, Napoli, Bologna e Verona. In prima linea anche il direttore del Parco archeologico Gabriel Zugtrigel, che ha tenuto una lezione a 95 allievi dell'Istituto di Istruzione Superiore Parmenide di Roccadaspide e ha raccontato in diretta gli scavi in corso presso il Tempio di Nettuno. È stato emozionante ricevere le tante domande dei ragazzi e interloquire con loro, dichiara il direttore. Andare nelle scuole è sempre un'esperienza bellissima, anche se in modalità remota. Ora stiamo lavorando per ampliare l'offerta didattica ulteriormente in maniera tale da poter soddisfare tutte le richieste. È un momento difficile per alunni, docenti e famiglie e noi come Parco archeologico ci siamo per dare una mano. L'offerta di didattica a distanza del Parco archeologico include attività gratuite rivolte a tutti, fruibili anche sui canali social e YouTube di Pestum e Velia. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pestum.museum.